Siamo rammaricati, arrabbiati, un po' delusi sicuramente, è il risultato che non ci aspettavamo, è il risultato che non volevamo assolutamente, però questo è, quindi è stata brava l'entella che ha aspettato l'episodio giusto e noi invece un po' troppo frenetici, non siamo stati i soliti sicuramente ed è un peccato perché una volta in superiorità numerica ho sperato col tempo di portarla un po' dalla nostra parte, la partita infatti nel secondo tempo ho provato con un palleggiatore in più anche per cercare di avere il palleggio, purtroppo l'episodio del gol su punizione mi ha tolto le possibilità di cambiare, anche perché le avevo già fatti nel primo tempo, ho avuto due difezioni nel primo tempo e quindi il piano gara diciamo che è cambiato parecchio, ecco se fossimo riusciti a portare avanti la partita a solo 0-0 almeno fino al trentesimo, 25-30 del secondo tempo, Maiari avrei potuto cambiare anche qualcosa a metà campo in freschezza per ritrovare un po' di freschezza a metà campo con Vallocchi ma purtroppo non c'è stata la possibilità. Ma ha inciso più che altro perché è cambiata la partita nel secondo tempo, con il gol che abbiamo subito mi ha tolto delle possibilità. Chiaro che perdere i due attaccanti titolari dopo un quarto d'ora non è mai facile, insomma bisogna ritrovare un po' anche perché chi entra magari non entra subito bene, magari qualcuno che non è abituato a fare determinato tipo di partita o comunque entra subito in questo clima. Però insomma nel secondo tempo mi sembrava che stessimo rischiando poco, sono su qualche palla inattiva, è venuto il gol che ha cambiato chiaramente, ha cambiato il mood della partita. Ecco lì ho dovuto necessariamente, avendo uno slot solamente, con due cambi, provare a mettere dentro giocatori offensivi. Ma non ho potuto dare freschezza da altre parti, avevo pensato di cambiare all'esterno, avevo pensato di cambiare un centrocampista, mettervi all'occhio, insomma non ho potuto farlo. C'è poco tempo per recriminare peraltro, ma c'è una partita già martedì, ci siamo detti subito in uno scogliatoio che qualsiasi pensiero negativo possa entrare in questo momento nella testa, deve per forza essere scacciato via. L'impegno martedì è brevissimo, non abbiamo due giorni nemmeno di recupero, dobbiamo cercare di prepararci per quella gara lì. Ecco, io sono molto fiducioso, ho visto i ragazzi comunque abbattuti sicuramente, ma allo stesso momento ho cercato di dare speranza, voglia, che quella è la cosa principale. Comunque mentre è una squadra pericolosa nella ripartenza, hanno giocatori pericolosi nella ripartenza, anche se sei in superiorità numerica, il rischio che tu possa subire qualcosa fisicamente sono forti, quindi ogni duello poteva scatturire una punizione dalla quale, e poi è venuto anche sfortunatamente, quello che abbiamo subito perché è stato un tiro centrale che purtroppo c'è stata una deviazione. Però noi siamo stati un po' troppo freneti, soprattutto il primo tempo, secondo me c'era da far girare molto più pallone, giocare meno tocchi, per quello ho inserito poi Luca, che pensavo di gestirlo più avanti, invece ho dovuto inserirlo subito per cercare di trovare un pochettino più di palleggio, ma l'episodio mi ha cambiato veramente la possibilità di dare freschezza un po' anche alla squadra, con qualche inserimento fresco. Mi dispiace questo, mi dispiace molto questo, al di là dei calciatori come Rallini e Pellegrini che non so se li recupererò per martedì, ma ci saranno, giocheranno altri. Ma guarda, quello è inconsciamente, perché a fine primo tempo ci siamo detti che la partita dovremmo andarla a vincere, anzi lui per primo, ma tutti, è proprio un aspetto inconscio del calciatore in campo, molto probabilmente. È chiaro che quando pensi di avere la partita sotto controllo, a volte cerchi anche di far sfogare l'avversario per cercare anche di andare sulla stanchezza, non siamo stati bravi sicuramente nel giocare a pochi tocchi, andare da destra a sinistra come avevamo pensato di fare, perché c'era da fare correre lentella in questo caso qua. Invece siamo stati frenetici, abbiamo anche per caratteristiche dei calciatori, è chiaro che quando in campo Varela è un giocatore che ti pone a mettergli la palla soprattutto nella profondità, lo sai che lo puoi cercare poco tra le linee, sui piedi. Ci è mancato un po' questo, è chiaro che dobbiamo recuperare bene i nostri attaccanti, anche Adriano oggi ci ha messo dentro comunque un quarto d'ora e venti minuti e anche il quarto d'ora e venti minuti comunque qualcosa ha fatto vedere. Abbiamo provato a fare un po' di forza in finale ma non è stato abbastanza, lentella si diventiva bene, è chiaro che difendersi dentro l'area di rigore è più semplice. Onestamente il pensiero alla loro partita non ce l'ho, io penso alla nostra e credo che noi siamo forti, che andremo a potere per cercare di vincere la partita come facciamo sempre. Non guardo gli altri, sapevo che ho sempre detto che ci sarebbe stata a bagarre fino alla fine, qualsiasi risultato sarebbe uscito oggi, nulla cambiava nel senso che sapevo che c'era la lotta fino all'ultima partita e così sarà, perché i nostri competenti sono forti. È chiaro che in questo momento non siamo lucidissimi, non riusciamo essere lucidissimi con i nostri attaccanti, questo sicuro. Gli attaccanti vivono un pochettino di momenti, ci sono momenti che i golli fanno senza accorgersene e momenti dove si fa un pochettino fatica. Non abbiamo un bomber assoluto quest'anno che ha fatto mare qui in 18-20 gol come è successo l'anno scorso, abbiamo più giocatori che vanno in rete, quindi noi dobbiamo sfruttare questa nostra caratteristica, ci è mancato per tanto tempo Adriano e assicuramente un giocatore che poteva arrivare a quelle cifre di sicuro se non fosse fatto male. Noi dobbiamo puntare su tutti i calciatori, su tutti i calciatori, abbiamo in rosa anche perché se abbiamo qualche infortunato, noi abbiamo giocatori che come ho sempre detto sono tra i migliori della serie C, anche se nella mia squadra magari a volte non giocano. Io credo che sappiano loro stessi chi deve ancora dare qualcosa, chi deve metterci dentro ancora qualcosa e sta a noi dargli la fiducia di giocare per poterlo dimostrare. Ma Pellegrini è una distorsione alla caviglia e Lanini ha preso una botta sul quadricipite. La cosa un po' particolare è che si sono fatti quasi male nello stesso momento. Magari con un senno di poi sarebbe stato quasi più utile cambiarle entrambi, almeno avrei utilizzato solamente uno slot. Invece Eric ha provato a stringere i denti, ma riscaldandosi invece il dolore era forte e gonfio adesso sulla coscia e Pellegrini ha una distorsione alla caviglia. Vediamo nei prossimi giorni. Eh sì, ha fatto un contrasto, anche lui ha provato, sai, sono situazioni quelle che a volte altri giocatori capita poi scaldandosi, giocando, correndo, solitamente passa, poi ti ritorna a finire il primo tempo eventualmente. Invece ha sentito dolore molto forte, a volte zuppicava, quindi aveva chiesto di venire davanti al cambio. Quando c'è stato l'occasione, c'è stato un contrasto in area di rigore, mi sembra, ho preso una famosa vecchietta, diciamola così, volgarmente la chiamiamo così, molto forte infatti se gli si è anche gonfiato. Adesso vediamo, onestamente, non te lo so dire, non ho visto una caviglia super gonfia, però è chiaro che è molto dolorante. Vediamo, insomma, però abbiamo recuperato in parte Adriano, che sicuramente non ha i 90 minuti, però comincia a avere qualche minuto in più, oggi credo che anche in poco tempo sia riuscito a metterci qualcosina di su, almeno nello spirito, lui è molto forte. L'aspetto psicologico, insomma, sicuramente è fastidioso, stanotte non passeremo una bella nottata, ecco, mettiamola così, questa è sicura, ma per come conosco i ragazzi non è la prima volta che si perde una partita. Come se ne vanno le vittorie se ne andrà anche la sconfitta, dalla nostra testa, per ricercare altre vittorie. È necessario cercare di andare a vincere su tutti i campi, io ripeto, noi abbiamo sempre posto questo e il fatto che inconsciamente ci siamo, potremmo aver dato l'impressione di accontentarci per un pareggio, questo non mi piace perché non fa parte del nostro DNA, non fa parte del nostro modo di superare. Credetemi che non c'è stato nessun tipo di pensiero a voler tentare di portare a casa un pareggio, anzi, a fine primo tempo onestamente c'era la voglia di provare a sbloccare la partita eventualmente per provare anche a vedere loro cosa facevano. È chiaro che poi i ragazzi sono in campo loro, adesso non mi ricordo esattamente quando abbiamo subito il gol. Secondo me fino a quel momento lì, anzi avevamo avuto qualche situazione interessante noi con Varela, a me sembrava onestamente che eravamo abbastanza in controllo, poi la gara la fanno sempre i calciatori, io anzi ricordo che spesso ho dovuto fermare Cauts perché voleva sempre andare, e gli ho detto fermati un attimo perché a volte eravamo anche abbastanza scoperti. Il gol è arrivato da una situazione eurocambolesca, una punizione data e una punizione da 25-30 metri deviata. L'episodio purtroppo questa volta non c'è stato favorevole, però non dovevamo arrivare sicuramente a quello. Non vorrei che passasse il messaggio che ci sono delle scuse, degli alibi, assolutamente no. Noi questa partita l'abbiamo persa, sappiamo di averla persa, mi aspetto una bella reazione da parte mia, del mio staff e anche da parte della squadra sulla prossima partita. Quello che abbiamo sempre avuto, non sarà certo una partita a farci perdere le certezze, le partite si vincono, si perdono. Siamo poco abituati a perdere, questo sicuramente, dobbiamo essere bravi a cercare immediatamente di una ferita, che abbiamo una ferita, cercare di rimaginarla immediatamente, di chiudere l'uscita del sangue, questo di sicuro. Sì, oggi è veramente bello, dobbiamo solo ringraziare i nostri tifosi. Mi dispiace veramente non essere riusciti a dargli una soddisfazione. Ecco, poi anche questo può aver portato un pochettino la squadra ad essere un po' a rischiare poco. Non lo so, perché onestamente in campo i ragazzi spesso vicino anche loro un po' il ritmo delle gare, in base a quello che trovano. Non siamo una banda di ragazzini che entra in campo e va sempre a 200 all'ora. Siamo una squadra che è composta da giocatori che hanno una grande esperienza, nonostante io a volte gli chieda di essere più veloci, di andare da una parte all'altra più velocemente, a volte capisco che ci sia una gestione in campo anche da parte loro, l'ho fatta anch'io da cacciatore. È chiaro che se avessimo vinto noi oggi per il Cesena magari si complicava un po', la vittoria dell'Entella rimette dentro un po' tutti. è chiaro che 8 punti non sono pochi, hanno uno scontro diretto anche loro questo martedì e quindi vediamo, si vive di partita in partita. Per fortuna ti dico che c'è una partita subito martedì, io credo che così almeno pochi pensieri, poche chiacchiere e andiamo subito da domani a parlare di un'altra cosa che non è questa partita di oggi. Noi abbiamo parlato anche nello spogliatoio, è stato un bel momento in una giornata storta, una giornata difficile, ci teniamo a ringraziare i tifosi per quello che ci hanno dimostrato. Ho detto bene, ripartiamo da lì, sappiamo di essere una squadra forte, oggi magari è stata una giornata no, archiviamo questa partita che martedì già ci aspetta un'altra partita dove dobbiamo assolutamente andare a vincere. Stare qua ad analizzare la partita è difficile, siamo mancati secondo me in tante cose, in tante cose perché probabilmente non si è vista la vera Reggiana, sì che davanti comunque avevamo una signora squadra in un momento molto molto positivo, però noi non eravamo i soliti. È stata una partita per lo più che ha vissuto sull'equilibrio costante, però noi dal momento in cui loro sono andati in inferiorità numerica dovevamo fare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio assolutamente. Anche perché poi come abbiamo visto da una punizione da un calcio piazzato può nascere qualsiasi cosa. quindi penso che il nostro errore sia stato probabilmente gestire in maniera non troppo offensivamente parlando. Abbiamo gestito la partita probabilmente inconsciamente pensando al pareggio e noi non siamo una squadra che deve fare questo. Noi dobbiamo giocare tutte le partite per vincere, per creare occasioni, per andare in porta, per fare gol. Probabilmente abbiamo sbagliato questo. Abbiamo perso questa partita come le abbiamo perse altre, abbiamo sempre dimostrato di riprenderci alla grande, quindi io sono sereno e tranquillo che martedì rimettiamo le cose a posto. Non parlerei di cuore perché poi magari quando butti la palla là tanto per fare crei solo confusione. Questa squadra ha dimostrato in 30 partite che il cuore ce l'ha. Non è per una partita che mandiamo all'aria tutto, quindi non penso che sia questione di cuore anzi. Ci abbiamo provato in maniera probabilmente disordinata, in maniera poco efficace però penso che a questa squadra non gli si possa imputare il fatto di provarci sempre e di giocare con il cuore. Il nostro errore è stato di accontentarci probabilmente del pareggio. Era in gestione il pareggio? Sì, era in gestione però poi loro si vedeva che comunque avevano un fallo qua, una punizione lì, erano sempre abbastanza pericolosi. Quindi dovevamo fare meglio, dovevamo gestirla meglio e in maniera diversa probabilmente. Però questo anno di poi è normale che trovi tutti i problemi e tutti gli errori. È stata una partita così, quando abbiamo prima parte degli spogliatori dobbiamo archiviarla in fretta e basta se comunque siamo davanti. Ma pesano se non riusciamo a resettare questa partita ma non credo. Fortunatamente martedì c'è già un ulteriore banco di prova. Il campionato non sarebbe finito in qualsiasi maniera fosse andata questa partita perché anche se avessimo vinto avremmo messo un bel mattone sì ma mancavano comunque sette partite. Ci siamo complicati un po' la vita, questo sì, però io penso che la Reggiana arrivi in fondo. Guarda noi, il dispiacere è doppio al di là del risultato perché comunque è stata una bella cornice di pubblico. Sarebbe stata una bella giornata. Chiudiamo questo capitolo, andiamo avanti. Sappiamo come uscirne, abbiamo la testa per farlo, i giocatori di esperienza ci sono, i giocatori di qualità li abbiamo. Dobbiamo solo resettare e ripartire. Siamo rimasti molto colpiti e contenti di questa cosa dei tifosi e cercheremo di non deluderli.